Ti piacciono i timelapse ma pensi che siano troppo complicati da fare? Oppure credi che per ottenere buoni risultati siano necessarie attrezzature costose? In questo tutorial ti spiego come ottenere ottimi timelapse usando quello che hai reflex, mirrorless, compatta, smartphone, action cam, qualunque cosa scatti foto. Anche per il montaggio utilizzeremo esclusivamente software gratuiti, dopo la sigla. Ciao, sono Mariano di videozappo.com, questo canale tratta di fotografia e di video. Troverai guide, prove e tutorial, proprio come quello di oggi. Se non lo hai già fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. Per tutti i link ai prodotti e alle risorse di cui ti parlo in questo video, come al solito, dai uno sguardo alla descrizione qui sotto. Nella sostanza puoi immaginare un timelapse come un video velocizzato ed in effetti uno dei modi per realizzare i timelapse è proprio quello di girare un video normale, molto molto lungo, cioè per un periodo di tempo molto più lungo di quello che poi ti servirà in montaggio e poi velocizzarlo di 10, 100, anche 1000 volte. Questo modo di fare il timelapse non è quello che useremo, ma utilizzeremo l'altro sistema che ti dà un controllo maggiore su quello che vai a scattare, specialmente se usi una reflex o una mirrorless, perché appunto puoi scattare in RAW. Questo sistema consiste nello scattare un certo numero di foto ad intervalli regolari. Capisci quindi che ci sono già due parametri che dobbiamo stabilire, ovvero ogni quanto scattare e quanto scattare. Il numero di scatti sostanzialmente definirà la durata massima del nostro timelapse, ovvero il numero di fotogrammi. Come si calcola questo numero? Banalmente si prende il numero di fotogrammi al secondo a cui monteremo, normalmente 24 o 25, e lo si moltiplica per il numero di secondi. Quindi se voglio un timelapse di 5 secondi a 25 fotogrammi al secondo, avrò bisogno di 125 scatti, 125 foto. Magari ne scatterò 150 in maniera da avere un mezzo secondo in testa e in coda in più rispetto a quello strettamente indispensabile. La questione successiva è ogni quanto scattare e questo dipende dal soggetto che stiamo riprendendo. Se riprendiamo cose relativamente veloci come il traffico o le persone che si muovono in una piazza o in una stanza, un intervallo tra gli scatti di 1 o 2 secondi è un ottimo punto di partenza. Se invece riprendiamo cose leggermente più veloci come può essere ad esempio le nuvole in cielo, un intervallo tra i 5 e i 15 secondi tendenzialmente ci darà buoni risultati, dipende anche molto dall'altezza e quindi dalla velocità delle nuvole. Se riprendiamo cose ancora più lente come potrebbe essere la luna che sorge, il sole che tramonta o le stelle che girano nella volta celeste, un intervallo tra i 15, 20 e i 60 secondi è un ottimo punto di partenza. Cose ancora più lente come lo sbocciare di un fiore, il palazzo in costruzione e cose di questo genere richiedono una buona pianificazione e una discreta conoscenza della tecnica. Quindi te le sconsiglio caldamente come soggetti per iniziare, ma comunque capisci da te che hai bisogno di intervalli tra gli scatti maggiori, generalmente che cominciano sui 4-5 minuti per arrivare anche, nell'esempio dei palazzi in costruzione, anche al 1 o 2 scatti al giorno. Tieni presente che puoi sempre velocizzare il tuo video, quindi se scatti a un intervallo troppo breve tra un fotogramma e l'altro, potrai comunque velocizzare il video in postproduzione. Al contrario, se lasci un intervallo troppo largo tra una foto e la successiva, non potrai rallentare il video, o meglio, potrai farlo ma con risultati generalmente deludenti. Quindi, se sei indeciso per dirti tra 2 e 4 secondi, fai 2 secondi. Se ti stai chiedendo quanto tempo ci vorrà per scattare il timelapse, è sufficiente che moltiplichi il numero di fotogrammi di cui hai bisogno, nell'esempio che abbiamo fatto all'inizio, 125, per l'intervallo di scatto. Se scattiamo ogni 2 secondi, 125 per 2 fa 250, ovvero 4 minuti e 10 secondi. Se invece vuoi sapere quanto il tuo timelapse è più veloce della realtà, quindi del tempo reale, basta che moltiplichi il numero di fotogrammi al secondo del tuo montaggio, nel nostro esempio 25, per l'intervallo tra uno scatto e l'altro, nel nostro esempio 2. Di conseguenza, il nostro timelapse sarà più veloce di 50 volte rispetto alla realtà. Ogni minuto di timelapse corrisponde a 50 minuti di tempo durante la ripresa, quindi nella realtà. Vediamo che cosa ti serve per realizzare un timelapse. Per scattare le foto puoi usare praticamente qualsiasi cosa. Va bene il cellulare, se hai un cellulare Android puoi scaricare framelapse, la versione gratuita già va bene, se vuoi spendere qualche euro la versione pro offre qualche funzione in più, ma ti dico, già con la versione gratuita fai tutto. Su iOS, quindi sull'iPhone, puoi utilizzare l'Appsit, che esiste anche per Android, ma secondo me framelapse funziona molto meglio. Se hai una reflex che ha una presa per il telecomando o una mirrorless con la presa per il telecomando, ti consiglio un piccolo intervallometro. Ti lascio il link in descrizione a qualche modello consigliato. Personalmente preferisco quelli col filo perché sono più affidabili e, oltretutto, costano generalmente la metà del modello equivalente senza fili. Se invece la tua macchina ha direttamente la funzione per girare timelapse, chiaramente non hai bisogno neanche dell'intervallometro. Praticamente in ogni action cam la funzione per scattare timelapse è incorporata e gestitata dal software interno, quindi tutto ciò che dovrai fare è impostare i parametri, che poi si riducono praticamente a due, ovvero l'intervallo di scatto ed eventualmente il bilanciamento del bianco. Se hai una reflex e una mirrorless che non hanno né la funzione incorporata né il terminale per l'intervallometro, non ti scoraggiare, puoi scaricare una delle tante applicazioni che si utilizzano per l'allenamento, basta che cerchi su Google Workout Timer e ne troverai a centinaia, io utilizzo questa ma funzionano tutte presto a poco alla stessa maniera. Sul numero di ripetizioni imposti il numero di fotogrammi, qui c'è 175, sull'intervallo imposti il tempo tra uno scatto e l'altro, io ho impostato 5 secondi e il riposo lo imposti a zero perché chiaramente tu non devi riposarti tra una foto e l'altra, lo avvii, qui vabbè in questa mia parte, questo contro la rovescia da 5 secondi prima di partire, scatti la prima foto con il ditino, cioè con il pulsante di scatto, seconda foto e vedi qui sopra ti vengono scalate le foto che hai già fatto, ora lo fermiamo perché continua a fare rumore, se usi questo sistema, scusa il casino che c'è qui, imposta la macchina sull'autoscatto in modo tale che non trasmetti vibrazioni nell'istante in cui premi il pulsante di scatto, basta che lo imposti a un paio di secondi, in ogni caso hai bisogno di un supporto per la tua macchina, puoi comprarti un vero e proprio cavalletto, qualche link in descrizione di modelli consigliati e di qualche video che ho già dedicato all'argomento, a questo punto sei in grado di determinare quanti fotogrammi scattare e a che intervallo l'uno dall'altro, vediamo come impostare la macchina fotografica, lo smartphone, quello che utilizzerai per acquisire del timelapse, il principio di base è quello di cercare di bloccare quanti più parametri possibile in modo che non varino tra uno scatto e l'altro, quindi tra un fotogramma e l'altro del video finale, questo eviterà il cosiddetto flicker, cioè delle piccole variazioni di illuminazione che sono estremamente fastidiose nel momento in cui vai a riguardare il filmato a velocità normale, se usi una reflex o una mirrorless, impostala in manuale, ci sono dei casi in cui questo potrebbe non andar bene, ad esempio se stai facendo un timelapse che va dal giorno alla notte, ma questi sono casi un pochino più complicati e che magari dovresti vedere nel momento in cui hai fatto esperienza con quelli più semplici, quindi per il momento diciamo macchina in manuale, bilanciamento del bianco ad un valore congruo ma non in automatico, è vero che anche scattando il RAW potrai cambiarlo in post produzione, ma se parti con delle immagini tutte uguali, comunque farai prima e potrai oltretutto vedere al volo nel display della macchina se tutto è andato bene, quindi imposta un valore del bianco adatto a quello che stai riprendendo e lascialo in manuale, anche gli ISO mettili in manuale, imposta un diaframma congruo con quello che stai fotografando, generalmente un paio di stop chiusi da tutta apertura vanno più che bene come punto di partenza, se poi vedi che c'è troppa luce certo potrai chiudere di più, anche la messa a fuoco deve essere in manuale perché non vuoi per nessun motivo al mondo che cambi tra un fotogramma e l'altro, quindi metti a fuoco e poi imposta la macchina in manuale, stessa cosa con lo smartphone, Freelapse ha l'apposita funzione per bloccare la messa a fuoco o per metterla ad esempio all'infinito che generalmente è un'impostazione corretta per un timelapse perché in linea di principio stai riprendendo una cosa abbastanza larga con tutte le dovute e numerosissime eccezioni se hai una qualche forma di stabilizzatore disabilitala perché potrebbe spostare leggermente l'immagine tra un fotogramma e l'altro creando un affetto assai fastidioso sei sul cavalletto quindi sostanzialmente non serve a nulla, basta disabilitarla dall'obiettivo, dalla macchina o dal menu, su Freelapse hai la possibilità di bloccare sia l'esposizione che il bilanciamento del bianco sul primo fotogramma quindi pure che lasci l'esposizione e il bianco in automatico Freelapse ha la funzione per conservarli invariati dall'inizio alla fine del timelapse ed è un'ottima opzione da attivare dal momento in cui avvi la ripresa non toccare più nulla potrai averne la tentazione ma ogni cosa che tocchi è un danno che fai e ti rovinerà in qualche maniera il lavoro che stai facendo quindi stai sereno la cosa più importante è non toccare niente un ultimo parametro un pochino avanzato ma che dovresti considerare è la cosiddetta motion blur ovvero quella sensazione di scarsa nitidezza che hanno gli oggetti che si muovono all'interno di una foto o di un video questa caratteristica la motion blur da una grande naturalezza alle immagini e rende il tutto meno scattoso ora con un action cam o con uno smartphone non è assolutamente semplice replicare questo effetto ma se hai una reflex o una mirrorless questa cosa è assolutamente possibile come si fa devi impostare un tempo di esposizione relativamente lungo ti renderai conto che per impostare un tempo di un quarto un mezzo di secondo che all'incirca quello che ci vuole per rendere abbastanza naturale la motion blur in un time lapse non ci riuscirai neanche mettendogli uso al minimo ed avrai bisogno di un filtro nd anche parecchio denso tendenzialmente un nd 1000 dedicherò un intero video a questo argomento ragioni in più per iscriverti al canale la motion blur in realtà può essere aggiunta anche in post produzione il problema però è che a parte la pazienza non sempre il risultato è perfetto qualche volta si possono notare degli artefatti diciamo che sai la possibilità aggiungere la motion blur direttamente in ripresa non è una cattiva idea per questo time lapse che riprende le persone che si muovono qui sulla scalinata di piazza di spagna ho deciso di scattare con un intervallo di due secondi un totale di 230 fotogrammi per una durata complessiva a 25 fotogrammi al secondo di poco più di 9 secondi stabiliti questi parametri vanno riportati su ciascun apparecchio e la procedura chiaramente dipende in base all'oggetto che stai utilizzando per riprendere il time lapse sulla gh 5 ho montato anche un filtro nd 1000 in modo da poter utilizzare un tempo di esposizione più lungo ed avere un pochino di motion blur sulle persone sulla mirrorless o sulla reflex siamo da reflex hai la possibilità di configurare anche qualche altro parametro come appunto il tempo di esposizione e il diaframma a cui scatti oltre magari alla messa a fuoco che ad esempio sul cellulare esiste ma sull'action cam non c'è sono piccole differenze ma sostanzialmente devi prendere i parametri che è stabilito per riprendere la scena impostarli sul dispositivo che hai scelto e azionare la ripresa eccoci al computer pronti per fondere insieme tutti i fotogrammi nella realtà se è girato con un action cam col cellulare ma anche con molte macchine fotografiche potresti trovarti già con un file video bello e pronto dunque al computer in realtà non è assolutamente nulla da fare infatti guarda questo è il video che ho realizzato col cellulare con fra in laps vedi che l'angolo di campo è abbastanza stretto ma in fin dei conti non è affatto male certo questa zona qui sotto è abbastanza buia così come questa è piuttosto sovraesposta questo invece è il file che ho fatto con la action cam l'angolo di campo è molto più vasto l'esposizione un po più abbondante vedi che le ombre ne hanno beneficiato ma qua sulle alte luci non si può dire la stessa cosa perché ho scelto questa scena così contrastata per farti vedere che se è vero che con cellulare ed action cam poi comunque ottenere buoni risultati e quando il contrasto inferiore hai assolutamente dei buoni risultati con una macchina fotografica ti troverai sì con un gran numero di file dng o row da editare ma avrai delle possibilità intervento molto più ampie questi sono i file che ho realizzato con la mia macchina fotografica ingrandiamo un tantino il preview se guardi il dng sembra che non abbiamo un grande vantaggio ma se ti faccio vedere la versione processata di questi file guarda un po abbiamo recuperato un sacco di informazioni sia dalle alte luci che dalle ombre per ottenere questo risultato sai già perfettamente come fare perché ti ho spiegato come usare luminar come usare raw therapy quindi hai tutti gli strumenti necessari per sistemare i tuoi dng il 16 9 non è certo un obbligo scegli tranquillamente il rapporto d'aspetto che meglio si adatta al sistema di visualizzazione che utilizzerai ti faccio notare come oltre ad avere delle ombre molto più aperte e delle alte luci meglio leggibili e dei colori in realtà forse addirittura troppo saturi perché magari ho esagerato un po in post produzione ho potuto utilizzare anche un tempo di esposizione molto più lento se fai caso le persone che si muovono sono appunto mosse e questo quando andremo a montare il time lapse finito darà molta naturalezza al movimento delle persone sarà meno a scatti rispetto a come lo hai visto con la action cam o col cellulare come facciamo a creare un filmato partendo da questa serie di immagini abbiamo tantissime possibilità ma quelle gratuite sono veramente poche se hai qui time pro sul mac puoi farlo direttamente da qui time pro per tutte le altre piattaforme gli strumenti gratuiti che ci consentono di completare questa operazione sono diciamo due o tre quelli che ho scelto io sono due che sono probabilmente i più facili non sono facilissimi ma comunque alla portata di tutti il primo è un software di montaggio potentissimo assolutamente gratuito che è da vinci resolve giunto la versione 15 per avere da vinci devi scaricarlo ti lascio ovviamente il link nella descrizione qua sotto arrivi in fondo a questa pagina hai queste due possibilità da vinci resolve 15 studio e da vinci resolve 15 la versione gratuita va assolutamente bene fa tutto quello che serve ti chiede il sistema operativo su quale vorrà installarlo vedi che esiste per mac per windows ma anche per linux io ho windows compili questo forma con i tuoi dati schiacci registrati e scarica e accedi alla pagina di download dell'applicazione la installi la prima volta che la lanci ti guiderà in una procedura di configurazione non complicatissima credo che non ti crederà nessun problema ed ora vediamo come fare per utilizzarla al nostro scopo cioè quello di unire tutte le jpeg in un'unica immagine io l'ho già installato chiaramente eccolo qui schiacci new project lo possiamo chiamare semplicemente timelapse create ed eccoci nell'interfaccia del programma la prima cosa che dobbiamo fare è importare un media tasto destro import media le jpeg già pronte di piazza di spagna le selezioniamo tutte e schiacciamo open da vinci si accorge che è una sequenza di immagini e crea un file video a questo punto tasto destro e selezioniamo create new timeline using selected clips ma puoi chiamare piazza di spagna o come meglio credi e schiacci create da vinci risolve un programma potentissimo che può fare veramente di tutto noi in questo momento ci limiteremo banalmente ad esportare questa clip nella miniera più veloce possibile ma ti ripeto risolve è un software di potenza assoluta nota come questa clip se vai su clip attributes sia a 24 programmi al secondo se vuoi la poi rendere a 25 chiaramente si accorcerà leggermente per noi va bene il 24 quindi schiacciamo cancel ora per esportare il filmato semplicemente andiamo su deliver qui sopra puoi scegliere un preset ad esempio possiamo prendere youtube a 1080p lui ci propone come a contenere il quick time se preferisci può utilizzare le mp4 anche la risoluzione poi ovviamente cambiarla e mettere il 4k noi lasciamo il full hd che per ora va assolutamente bene diciamo in linea di principio non c'è bisogno che modifichi nient'altro fatto questo schiacci add to render q ovvero aggiungi alla coda di rendering lo mettiamo esattamente qui dentro e schiacciamo save a questo punto non ti resta che avviare la coda di rendering e il gioco è fatto vedi che in pochissimi secondi resolve sta esportando il nostro filmato vediamo che cosa è venuto fuori guarda come sia migliore la risa nelle alte luci ma così come nelle ombre ma anche la motion blur quindi questo senso di sfocatura che vedi nelle cose che si muovono contribuisce a dare un bel senso di naturalezza e di fluidità all'intero time lapse all'intero filmato questa è una cosa che se scatti col telefono o con l'action cam è un pochino difficile da ottenere non impossibile ecco non c'è un sistema facile per ottenere lo stesso risultato da vinci una soluzione molto semplice per ottenere il filmato partendo da una serie di jpeg il difetto di da vinci qual è è quello che richiede una macchina piuttosto potente per funzionare ma anche solo per aprirsi perché se non è una scheda video compatibile difficilmente riuscire ad utilizzarlo la soluzione nel caso tu abbia un computer un pochino datato o comunque non compatibile con da vinci e blender è un software per la modellazione 3d potresti pensare che poco c'entra ma ti faccio vedere che non è così per scaricarlo basta che schiacci questo tasto ti porta alla pagina di download schiacci download lo installi e sei a posto anche questo esiste per praticamente qualunque sistema operativo ti possa venire in mente e quindi a prescindere dal computer che stai utilizzando troverai senz'altro una versione di blender adatta io l'ho già installato eccolo qui lo apriamo quello che a noi serve è un unico modulo per accederci fai clic qui sopra e scegli video sequence editor te lo apre piccolino qui sotto ma è sufficiente che tu lo ingrandisca in questo modo qui a questo punto schiacci ad image navighi verso la posizione dove hai salvato le immagini per selezionare i file blendere un po strano ma se tu clicchi e trascini a questa maniera e lo fai nuovamente così ecco qui abbiamo selezionato tutti i nostri file ad image strip l'unico dettaglio che dobbiamo controllare questo numero che ci indica di quanti fotogrammi è composta la nostra animazione infatti la sequenza di default di blender è lunga 250 fotogrammi e il software l'exporterebbe tutta intera siccome noi abbiamo soltanto 230 fotogrammi gli ultimi 20 sarebbero neri e di conseguenza inutili oltre che anti estetici prendiamo nota di questo numero e lo riportiamo qua dove c'è scritto end frame quindi frame finale e invece di 250 scriviamo 230 ecco qua a questo punto dobbiamo modificare un pochino di parametri il primo è questo noi non vogliamo un png ma vogliamo un ffmpeg video quindi un file video in mpeg non lo vogliamo nella diretta ritemp ma lo vogliamo qui dentro piazza di spagna anzi non qui ma ecco qua e quindi scattiamo except vedi che adesso la pat è quella corretta qui sopra ai i presenti di rendering ti consiglio di partire da questo hd tv 1080p in ogni caso devi controllare alcune cose qui c'è la dimensione qui c'è la percentuale di quanto verrà scalato il rendering deve essere cento per cento ovviamente in modo tale che questi valori corrispondano qui sotto trovi l'aspetto dei pixel che normalmente deve essere quadrato quindi uno a uno se può fare un video anamorfico devi mettere il rapporto corrispondente qui sotto ma stiamo parlando di un argomento avanzato diciamo che in linea di principio deve essere uno a uno tutto il resto poi lasciarlo variato per iniziare il rendering devi schiacciare animation a questo punto blender sta iniziando a renderizzare il file diamogli qualche secondo e vediamo che cosa è venuto fuori questo è il file che abbiamo ottenuto che chiaramente è identico a quello che abbiamo ottenuto con resolve magari ci saranno delle differenze piccolissime legate all'algoritmo di compressione ma insomma si tratta dello stesso risultato la differenza con quello che abbiamo ottenuto col telefono o con la action cam è abbastanza evidente direi che la fatica che si fa nello scattare un timelapse con una reflex una mirrorless viene ampiamente ripagata dalla qualità e dalla flessibilità dei risultati e a proposito di fatica ma ti piacerebbe salire di livello e passare dal timelapse all'hyperlapse ovvero un timelapse con la macchina in movimento fammelo sapere nei commenti qua sotto intanto grazie per aver guardato questo video lascia appunto un commento metti un mi piace condividi il video iscriviti al canale ma soprattutto non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video